Buonasera a tutti quanti Questa sera fa ancora caldo Tra poco arriverà a piovere Alle 18.22 6 giugno 2021, domenica Sono 31 gradi, 31 gradi, ci sono ancora 31 gradi Fa ancora caldo, fa ancora Tra poco pioverà Danno temporale con grandine Temporale forte comunque A dire la breve Almeno un po' di fresco porterà Anche ieri è piovuto Un'ora di pioggia Ha fatto fresco Adesso è ancora caldo E l'estate purtroppo così l'estate Vabbè, vi auguro nella buona serata tutti quanti E ci sentiamo domani Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti